Benvenuti in Toscana, benvenuti nella Val d'Orcia. E allora, vi ricordate nel film Il gladiatore di Ridley Scott la famosa scena in cui Massimo X Meridio cammina nei Campi Elisi il viale di Cipressi che conduce alla sua casa è in Val d'Orcia ai piedi di Pienza, praticamente siamo in provincia di Siena sulla strada di Terrapille, una strada sterrata che conduce ad un agriturismo e di fronte a questo agriturismo c'è la strada, c'è il viale di Cipressi la scena che si vede in cui Russell Crowe sogna e la scena in cui i soldati uccidono la famiglia di Russell Crowe siamo appunto in una delle location del gladiatore ed una delle scene più suggestive di un film che ha segnato una parte del cinema degli ultimi anni per quanto riguarda la filmografia storica e d'azione, se vogliamo. We missed the final call The writing's on the wall We fell and now we walk In the ruins of our love Days gone fading Hearts still aching I can't control it I can't control it I know Keep pretending That we could never make it I know you know it I know you know it I know In the late night When the light's out Can't escape now We lost your heart